Nuova lezione indicata alla traduzione francese, siamo arrivati al governo dei Giacobini. Brevemente il recupero, i Giacobini nel 1993 compiono un colpo di Stato, dunque stromettono i Girondini dal governo, i Girondini vengono arrestati, molti Girondini poi sono processati, accusati di tradimento della rivoluzione, del governo del popolo e verranno molti Girondini anche uccisi. Nasce il governo del direttorio preseduto da Maximilien Robespierre, nasce il governo dei Giacobini. I Giacobini iniziano una politica ultrademocratica, però con quel punto di partenza importante da capire. È una dittatura di una minoranza che si presenta come portatrice della volontà generale della patria, del popolo, della nazione. Dunque Robespierre è mosso da questa idea di volontà generale, volontà della nazione da realizzare attraverso le sue iniziative di governo. I principali provvedimenti sono, vi dicevo ieri, il maximum sui prezzi, i cereali, il grano, la farina, il latte, e poi un massimo e un minimum salariale. Al di sotto di un minimo non si può andare per il lavoro, dunque il lavoro deve essere retribuito, è riconosciuto come degno e dignitore, ma non si può anche andare oltre un massimo in alcuni lavori per evitare l'inflazione. Dunque un governo dirigista ha l'obiettivo di intervenire e dirigere l'economia. Inizia un processo di scristianizzazione, dunque di una laicità imposta con forza, e dunque molte chiese vengono sconsacrate, si sostituiscono in alcuni luoghi religiosi, appunto immagini sacre, statue della Madonna, quadri dei Santi, con immagini del mondo greco, antico, dunque la ragione su tutto, la statua della ragione, e dunque statua della ragione, statua di Minerva, di Atena, che debbono illuminare, dunque l'illuminismo radicale, i lumi della ragione contro l'ignoranza, contro appunto il privilegio. Dunque questa Francia rivoluzionaria che comunque è caduta in una conflittualità estrema, perché tutti gli anti-giacobini provano a organizzarsi, dunque i girondini, quello che rimane dei nobili, quello che rimane di altri club politici, e Robespierre, era arrivato qua ieri, inizia la politica del cosiddetto terrore. In cosa questo è il terrore? Il terrore consiste nell'arrestare e nel condannare a morte, nell'uccidere gli oppositori politici, e dunque molti, molti oppositori politici vengono uccisi, molti nobili, molti appartenenti al clero, accusati di essere contro rivoluzionari. Perché? Perché erano persone politiche, soggetti politici e pubblici, che cercavano di rovesciare il governo di Giacobini. E Robespierre si arrocca di fede la sua esperienza governativa, andando ad arrestare con che cosa? Con la polizia, con l'esercio fedele, usando anche i sanculotti, cioè il popolo parigino in modo particolare, che è un po' il braccio armato del governo dei Giacobini. Dunque alleanza sanculotti-Giacobini in questa esperienza di governo rivoluzionario, ma anche del terrore. Perché la legge, dice Robespierre, che noi maniamo, deve essere rispettata. Tutto deve venire all'interno della legge. Ma coloro che sono contro le leggi di Giacobini, la legge dovrebbe prevedere anche la possibilità del dissenso. Ma Robespierre il dissenso lo soffoca. Ma per quale motivo? E ieri Francesca, alla fine, discutiamo di questa cosa qua. Lo soffoca perché pensa che gli oppositori avrebbero rovesciato il suo governo e dunque quelle leggi che lui vuole promuovere per cambiare la Francia e per realizzare questa democrazia, anche con la dichiarazione dell'Uomo dei diritti del 1993, che questo posto di realizzazione venga meno. Dunque lui cerca di imporre con la forza un progetto politico. E questo sarà l'errore alla fine di Giacobini. È chiaro, l'errore è che comincia a denunciare Danton. Danton è passato nelle fila di Giacobini, è l'amico, il braccio destro di Robespierre. E Danton chiede a Robespierre a un certo punto di moderare questa repressione. Abbiamo bisogno comunque anche di alleanze, di consenso per poter governare la Francia. E Danton cadrà in disgrazia. Perché cosa accade nel 1994? Nel 1994 vi è il grande terrore, ragazzi e ragazzi. E il grande terrore non riguarda più solo gli oppositori politici esterni ai Giacobini. Il grande terrore riguarderà i Giacobini stessi. È un dramma politico quello che vi sto raccontando. Robespierre a un certo punto non si fida più dei suoi collaboratori. Pensa che i suoi stessi collaboratori, amici politici, ad esempio Danton, stiano tramando contro il suo governo. E Danton verrà fatto arrestare, verrà ucciso come tradittore nemico del popolo, nemico dei Giacobini. Capite? Farà dunque uccidere la destra dei Giacobini, come ad esempio Danton. Farà arrestare anche i leader della sinistra Giacobina, cioè quelli più radicali, che volevano già proporre elementi di uguaglianza sociale, di giustizia sociale, che aprivano a di fatto elementi di comunismo. Ci sono alcuni che cominciano a parlare di abolizione della proprietà privata, ma Robespierre, ve lo ricordo, in questo rimane profondamente liberale borghese, non vuole abolire la proprietà privata. Ma a sinistra di Robespierre ci sono alcune persone che dicono come si affronta il tema della povertà eliminandola alla radice, o eliminandola con delle riforme, o non eliminandola e preprimendola. Alcuni assistenti di Robespierre dicono che bisogna, ad esempio, rendere collettive le terre, collettivizzarle e darle in gestione ai contadini, un abbozzo di elemento comunistico. Anche questa parte, questa fazione, verrà repressa. Il grande terrore, ragazze, è veramente il suicidio politico di Robespierre. Perché? Perché Robespierre nel luglio, nell'estate del 1994, sarà vittima egli stesso di questi sospetti, di questo delirio di ogni potenza. Il nove termi d'oro, e dunque siamo appunto nel luglio, siamo a fine luglio, vi è il colpo di Stato. Il colpo di Stato contro Robespierre. Il colpo di Stato contro Robespierre è il 27 luglio. Gli anti-Robespierre, alcuni giacobini, ex-girondini, alcuni federati, cioè tutti gli anti-Giacobini e gli anti-Robespierre riescono a partire dall'assemblea, e poi non solo perché anche nella società, a rovesciarlo. Capite che viene rovesciato dai suoi stessi uomini. Chi è in combutta con altri anti-Giacobini lo rovescia. Ci sono dei giacobini, più degli anti-Giacobini, che messi insieme per rovesciare Robespierre, realizzano un colpo di Stato e portano di fatto al patibolo Robespierre. Dunque Robespierre verrà ghigliottinato. Potremmo dire che chi di ghigliottina ferisce, di ghigliottina perisce. Aspetta a Robespierre la fine che è aspettata a tantissimi suoi nemici, ma anche a tantissimi suoi amici di un tempo. Dunque Robespierre viene ucciso, Robespierre, Jean-Just Couton, vengono uccisi dalla Convenzione, da quella stessa assemblea che ormai era in preda al terrore rispetto al delirio anche di onnipotenza e alla paranoia da complotto di Robespierre. Per quello parlate anche di dramma politico. Ma quello che vi deve rimanere di questa esperienza è quest'idea di rapporto diretto tra il governo e il popolo. Temi di attualità. Io governo, ma ho i sanculotti in piazza, ho il popolo che interisce con me. È chiaro, rapporto diretto, direttorio, governo, popolo. Vi deve rimanere, una cosa molto importante, vi deve rimanere come riflessione, la democrazia della minoranza, quest'idea che ci possesso la minoranza, che si assume, dal suo punto di vista, un progetto politico democratico che impone. Io svecchio il paese, riformo il paese, so di non avere la maggioranza, ma impongo queste riforme, anche con la forza politica, anche utilizzando la legge soltanto per i miei scopi. Dunque si parla di democrazia autoritaria, il progetto di Robespierre, detto l'incorruttibile. Era un moralizzatore, Robespierre. Il politico è il servizio dello Stato, il politico non deve rubare. Devono essere nella Convenzione vestiti in maniera morigerata. Un politico non deve fare sfoggio di lusso, non deve venire qua e mostrare ori, argenti, collane, vestiti, tessuti, capi pregiati. Perché il buon politico deve essere al servizio del popolo e dello Stato e dunque deve essere morigerato anche negli usi costumi. Robespierre, l'incorruttibile, così era soprannunato anche per la sua durezza etica morale. Uomo dotato di un'arte oratoria, di una capacità di coinvolgere le folle, di far venire i brividi con i suoi discorsi come pochi altri. Per questo devi capire anche il successo di Robespierre. Cosa accade? Così poi vediamo le prossime lezioni Napoleone. Qui accade una cosa importante. Al 94 e al 97 vi è un periodo di transizione nella rivoluzione francese. Si vorrebbe stabilizzare la rivoluzione. Possiamo parlare di 94-97 come tentativo di stabilizzazione della rivoluzione francese. Dopo il giacobinismo il tentativo di dare stabilità alla rivoluzione francese, di dare un volto più moderato borghese alla rivoluzione francese. E' chiaro, dunque 94-97 tentativi di stabilizzazione. Di questa fase da sapere queste due o tre cose che vi dico. Primo, la fase 94-97 è una fase in cui vi è una repressione durissima contro i giacobini. Al terrore rosso dei giacobini segue il terrore bianco. I nuovi governanti, la nuova polizia, le nuove forze dell'ordine, il nuovo parati dello Stato, danno la caccia, perseguitano i giacobini, i quali vengono arrestati, i quali vengono condannati spesso a morte. Dunque il terrore bianco, sopraffa, prende il posto e il terrore rosso. Entra in campo la cosiddetta jeunesse doré, la gioventù dorata. Ai sans culotti dominanti, sans les culottes, con i pantaloni che sono le ginocchia, va bene? Subentra la jeunesse doré, cioè giovani, altoborghesi o di piccola nobiltà, ricchi, benestanti, abbigliati in maniera lussuosa, che picchiano, arrestano, fanno violenze contro i giacobini. La gioventù dorata, va bene? La gioventù dorata protagonista di sanguinose caccia al giacobino, quartiere per quartiere. Vedete come la luce francese ragazzi è un nodo da cui dovete passare studiando. Quanta modernità politica e della complessività di questo che c'è. C'è rivoluzione, contro rivoluzione, proseguimento della rivoluzione, progressismo, reazione. La jeunesse doré caccia il giacobino. Dunque i giacobini passano dal cacciare all'essere cacciati, dall'essere soggetto che arresta gli avversari policiti a essere arrestati. Dunque reazione, potete chiamarla termidoriana. Dopo il colpo del termidoro c'è questa reazione termidoriana di terrore bianco e di jeunesse doré. Terrore bianco contro i giacobini, gioventù dorata contro i giacobini. Prima cosa. Secondo, viene emanata una nuova costruzione, la costruzione del 1995, ed è una costruzione moderata, bicamerale, due camere, camere elette a suffraggio ristretto, comunque c'è il censo. Dunque si toglie il suffraggio universale maschile senza censo che c'era prima e si istituisce un suffraggio universale per censo, dunque un suffraggio limitato, bicamerale. Una camera viene eletta, dove sono elette persone più vecchie, è eletta da persone più vecchie, e un'altra da persone anche più giovani, possono essere elette da età più giovane. Dunque due camere, una potremmo dire simile a un senato, dove sono elette appunto uomini di oltre 50 anni ed elette da persone che avevano più di 30 anni, e un'altra camera che doveva essere, che eleggeva invece deputati più giovani, da elettori più giovani, ma che comunque dovevano pagare le tasse, dovevano avere dei poderi, delle rendite, dovevano avere delle ricchezze. Dunque una costituzione più moderata, suffraggio per censo, bicamerale, e rimane un governo, un governo appunto direttorio, in questo caso di 5 uomini, non più 9, un governo di 5 uomini. Dunque il potere esecutivo nelle mai del direttorio, il potere legislativo nelle mai di queste due camere, va bene? Elette per censo, con censo. Dunque il direttorio sono 5 uomini che governano il paese e devono avere direttorio, hanno il potere esecutivo, il direttorio è il potere esecutivo, invece le camere hanno il potere legislativo. È chiaro? In questo contesto di ritorno moderato, in questo contesto, ragazzi e ragazzi, di tentativo di stabilizzazione, emergono subito le prime tensioni. E le prime tensioni, direi, sono tre, almeno quelle che posso sintetizzare. Prima tensione, la contro-rivoluzione dei contadini. Nelle campagne, in modo particolare nella Vandea, i contadini stanno manifestando e sono organizzati in maniera militare, in bande, contro la rivoluzione, in nome del ritorno del re. Tornano a sventolare i gigli bianchi, simbolo dei Borboni, tornano a mescerci delle manifestazioni violente di contadini che vogliono il ritorno della diestina dei Borboni. Il ritorno del re, il re è stato decapitato, il re non c'è più, sta anche decapitata Maria Antonietta, ma loro vogliono che ritorni quel ramo dinastico. Da chi sono finanziati? Da nobili, dal clero. Dunque il clero e i nobili finanziano queste rivoluzioni, ma sono grandi ragazze, sono grandissime queste rivolte nelle campagne, tant'è che deve intervenire l'esercito e c'è una guerra della Vandea. L'esercito è già entrato al tempo di Giacobini, i Giacobini hanno represso queste rivolte contro il rivoluzionario dal loro punto di vista in Vandea, continua a reprimerle il governo post-termidoro. Prego Rebecca. Ma quindi è la prima volta che i tuoi nobiltà clero e il terzo stato si alleano per... Allora, la nobiltà e il clero appoggiano la parte del terzo stato più agraria, contadina, mi permetto di dire, non è un insulto, anche quella più ignorante rispetto a quello che sta accadendo nella città. Loro alimentano una massa di contadini nelle aree più conservatrici e cattoliche, non dunque ignoranti nel senso ma di quello che sta accadendo in città, di quello che accade rispetto al governo e dunque alimentano questa loro opposizione. Stavate meglio prima. Stavate meglio prima. Però non hanno fatto un altro specificissimo governo per aiutare i contadini. Sì, ma l'ultimo governo ha fatto delle proposte legislative che poi non hanno trovato attuazione reale perché per attuare servivano poi un apparato amministrativo burocratico che così diffuso e che però non c'era. Sapete chi e qua ve lo appuntate emerge già in queste guerre contro i contadini? Emerge la figura storica poi immensa, gigantesca, pesantissima di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte è un giovane militare ufficiale che diventava poi generale originario di Ajaccio della Corsica e cresciuto in ambienti militari democratici. Gli ambienti militari nel settecento e ottocento sono ambienti militari anche democratici cioè una testa e un voto vogliamo il voto noi siamo soldati per la patria perché non votiamo? Dunque c'erano elementi di democrazia di diritto al voto di suffoggio universale negli eserciti negli apparati militari. Napoleone è cresciuto nell'ambiente democratico una cultura di democrazia ed è stato anche un simpatizzante Giacobino a un certo punto poi tutto rientra. questo ufficiale si mette in mostra subito in queste operazioni militari per le sue capacità strategiche ragazzi Napoli innanzitutto sarà un genio della strategia militare tante cose farà dirà e sarà Napoleone ma sicuramente uno stratega militare e già qua emerge nelle battaglie contro la Vandea prima questione da sapere e questo l'ho spiegata seconda questione ci sono ancora repressioni ci sono ancora tensioni interne con tentativi di rivoluzione radicale ci sono ancora ultrademocratici che vogliono tornare all'esperienza giacobina o proporre addirittura qualcosa di nuovo spicca tra queste esperienze il tentativo di Babeuf 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 ok François Noël Babeuf detto cracco Babeuf in onore di cracchi coloro che come tribuni della plebe volevano la riforma agraria François Noël Babeuf è passato la storia non in realtà per quello che realizza ma per l'idea che ha avuto Babeuf è effettivamente uno dei primi comunisti perché Babeuf teorizza con il manifesto degli uguali una insurrezione in nome non più dell'uguaglianza formale uguali di fronte alla legge ma uguali nella società non ci sarà mai democrazia se non ci sarà la giustizia sociale e quando c'è giustizia sociale? Quando i frutti della terra saranno di tutti la natura esce di tutti la natura all'inizio è di tutti ora avete il recupero di un certo russo radicalizzato ora la natura è di pochi soltanto quando i frutti della terra che è di tutti tornano ad essere di tutti noi avremo la giustizia e dunque sarà quella rivoluzione alla rivoluzione politica deve seguire una nuova rivoluzione una rivoluzione sociale in cui ci sia la messa in comunione la collettivizzazione delle terre della produzione tra gli rivoluzionari con Babbeuf congiura degli uguali noi uomini siamo uguali per essere liberi dobbiamo anche essere uguali dobbiamo dividere tra gli uomini il frutto del lavoro non devono impossessarsi nei pochi uomini vi è Filippo Bonarroti che non verrà arrestato riuscirà a scappare e verrà poi in Italia e sarà portavista di molti rivoluzionari in Italia Babbeuf e tutti gli altri che stanno congiurando per questa insurrezione e che non ha nessuna possibilità di riuscita vengono arrestati e vengono uccisi ma perché ve l'ho citato uno perché il manifesto degli uguali è un manifesto importante da vista teorico si parla appunto di comunismo di uguaglianza sociale reale non solo di uguaglianza di fronte alla legge voi dovete saper distinguere l'uguaglianza formale ho finito l'uguaglianza di fronte alla legge da quella sostanziale siamo uguali nella società nella realtà e poi ve lo cito perché perché vi dimostra che i giacobini gli ultra giacobini democratici sono ancora sono ancora presenti stanno organizzando il terzo elemento vi cito perché da lì ripartiremo è la guerra con l'Austria sta andando avanti la guerra con l'Austria ma qui il governo del direttorio ha un'idea nuova andare all'attacco dell'Austria e sapete chi sarà incaricato per andare all'attacco dell'Austria? Napoleone Bonaparte che riceverà dal direttorio la missione di muovere guerra all'Austria nei territori che l'Austria controlla cioè in Italia ma questa è un'altra storia che vedremo poi è un'altra storia